Ciao a tutti, oggi è il 13 settembre e esattamente il 13 settembre di 36 anni fa, nel 1983, ci fu il nostro primo incontro, la prima volta che uscimo insieme. Io portai Susanna a vedere un allenamento a Costa Masnaga, poi la portai a prendere un gelato, lei era ancora minorenne quindi ci fermiamo al gelato, oggi che siamo molto più anziani, ci possiamo permettere di celebrare questo allenamento con due bottigliette di Cnusa, in omaggio alla terra sarda che ci sta ospitando, abbiamo un tubo di Pringles, sono passati 13.140 giorni più o meno da quella sera e siamo ancora qui, siamo ancora qui con voglia di celebrare questa ricorrenza, con la voglia di guardarci un tramonto, con l'auspicio che sia solo il tramonto di una giornata e che il tramonto del nostro amore sia ancora molto lontano. Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!